Musica Bello, bravo e bonaccione Utile, simpatico e tenerone Aggiungete intelligenza in abbondanza Ed ecco gli ingredienti specialissimi di un cane di successo Il Labrador Retriever È un cane di taglia media Dà un'impressione generale di cane robusto ma agile Il cranio è largo con stop ben definito La testa è ben modellata La linea dorsale è dritta senza insellature Termina come in un lineare prolungamento Nella caratteristica coda, detta anche coda di lontra Il pelo è corto e spesso È un po' ruvido al tatto e ha un fitto sottopelo Che protegge il cane che nuota nelle acque fredde Il Labrador ha un carattere meraviglioso Effettivamente è molto amato per il suo buon carattere È intelligente, esuberante e nello stesso tempo docile Nasce per uso venatorio come riportatore di selvaggina E al giorno d'oggi le prove di lavoro vertono appunto sul riporto E comprendono anche esercizi in acqua Sa buttarsi prontamente in acqua e dirigersi verso la persona che sta chiedendo aiuto Nuota con agilità usando la coda come un timone Prende la persona per un braccio e la porta fino a riva Riesce ad assistere persone con vari tipi di sofferenze o handicap Può essere addestrato ad esempio per aiutare persone diversamente abili Nel disbrigo delle piccole incombenze di casa Può aprire un cassetto, portare ciò che gli è stato chiesto e richiuderlo Può aprire un armadietto e portare per esempio una bottiglia d'acqua La tuilettatura è facilissima Spazzolature regolari E bagno solo quando è proprio sporco Il suo successo su scala mondiale è più che meritato È un super cane Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.